Vittoria meritata da parte del centro giovane calciatori in casa con il Monza per 7 a 4, un triste di successi in campionato per la formazione di Alessandro Bertolucci che mantiene la testa della classifica. Si sblocca il risultato al quarto con Ventura che trasforma un rigore, il giocatore realizzerà poi 4 reti. Al settimo Barozzi para un rigore a Zucchetti, il Monza presa Uomo e cerca di mettere in difficoltà il centro giovane calciatori che riesce ancora una volta ad andare in rete, questa volta con il capitano Palagi. Poi è Muglia, 14.55, che riesce a riandare ancora in rete per la formazione di origine. Ci pensa poi Ventura, il 22.27, il 22.25 del primo tempo. Il giocatore portoghese va ancora in rete all'11.02, davvero ha fatto la differenza in questa gara. Poi Ollè per gli ospiti all'11.02, ci pensa poi Batista, ma anche Gavioli ha fortuna nel realizzare una bellissima rete su assist di Muglia e in fondo, ormai partita scaduta sulla sirena, arriva la rete di Zambonna. Conquista una vittoria importante il centro giovane calciatori alla vigilia della trasferta sabato prossimo sulla ostica pista degli Odi.